Solo io e te, 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 ti presenti il pantacolo. Ormai è mezzanotte passata e abbiamo finalmente io e la mia amichetta qua a Orsa Polara, abbiamo finito di filmare la parte della mia, il video sarà fichissimo lo so già perché a parte che ve lo fa Matteo e poi abbiamo fatto delle cose fichissime quindi Cioè, non so se il backstage uscirà prima o dopo, ma in ogni caso vedete il video che non ve ne pentirete. Ho chiuso la porta per fare la scena, il problema è che adesso la porta è chiusa e niente dovrò andare a trovare la proprietaria. Ciao! Piazza di qui faremo la mezza guardandoci film solo io e te, 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 solo io e te. e niente cosa abbiamo fatto alla fine abbiamo preso sta villetta con piscina e ne abbiamo approfittato un po' per fare gli sbarambra con questa maschera da mascotte abbiamo reso il video un po' più cadelloso un po' meno da frapper che fa vedere le pipe che sculettano in piscina pensavo fosse più nel mio stile video epico finito male il tuo vestaggio sullo smartphone faccio l'orgoglioso e fingo che non mi importi ma sotto aspetto che il campanello suoni non metto mai in ordine perché averti in casa è come avere sempre stormy weather non c'è storia con il clamor delle feste alla valdoria tu mi preferisci sempre la gloria è un'ambizione da te sempre viente e te l'unica vita nel futuro delle mie coperte di tutte le mie pene dici che ti calzano a pennello che le tue ti vanno strette ma quello che mi chiedo è com'è che sta meglio su di te piuttosto che su quello che ne ha presi se volessimo riassumire in una parola la giornata di oggi basterebbe leggere l'espressione in volto della nostra Giorgia per capire qual è questa parola che stacca è stata lunghissima ed è stata molto carica e poi era anche molto divertente ci siamo anche dimenticati di comprare l'acqua quindi siamo andati avanti a bere roba super zuccherata se arriva a 50.000 views mi fanno la ceretta alle gambe fino al linguine ma qua non ne ho e niente vi salutiamo ci manca la parte ballata che farò con i ballerini e ciao pigiama party to 50k via boy viva letto allora siamo al secondo giorno di riprese dopo la villa siamo qua col coreografo sta assist e lui è un altro dei ballerini mi lancia Spiderman e lì ci sono i fantastici ballerini mi stuzzichi dicendo io non soffro il solletico ma così mi dà un pretesto per affondare le medita nei tuoi fianchi e vedere come balli quando ridi mentre piangi battono i pugni sul muro i vicini i decibel alti cosa fa qui nel condominio funziona così allora abbiamo finito yeah boy finito ma che punto è? è un punto buono non morto tutto a fiato eh sono le 18.10 ok in teoria il check-in era alle 3 quindi dopo 3 ore 10 abbiamo fatto i primi 4 secondi di ripro va bene hey andata andata guardate qua gli strioni che fanno le foto vediamo la discesa ma ragazzi ma questa è atleticissima come si sente dopo questa esperienza molto più coraggiosa di prima ok devo comprarmi una di queste perché è veramente veramente figa perché il fisheye è veramente una gran figata andata che cadi si è spaventata? no si è praticamente come come questo che passa guardate ok ti devi proprio levare ah scusate sono in mezzo oddio l'ho fatta o l'hai fatta con la modalità giusta? si il bacino strozzi è stato un po' da l'azzantino come si sente dopo questa terribile perdita? perdita la vita c'è guardate guardate è cascata netta la panina del gelato ce ne è anche un po' ho capito che io sono il cantante della canzone ho portato altre 4 persone per fare queste cose e ci sono io qua tutti i miei ascoltatori sotto i 18 anni chiudo terribile solo io e te sono io e te spizzino 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 sui mure vicini i decibelanti sono ovviti solo io e te al mio pigiore bambino dietro che va così mi stavo cambiando andate è quello qui è finita è una domanda limitata l'importanza il mcdonald è 24 ore lui parla solo in inglese viene dal queens noi stiamo morendo lui sta morendo di sudore dopo si toglierà tutto e sarà evaporato vabbè andiamo a fare altre take love you guys anzi vi saluto così guarda grazie